Musica Hello Sophia Land, come state oggi? Una bellissima giornata, benvenuti a un altro bellissimo video Spero che state super super bene e excited per questo video Siamo qui all'American Crunch Oggi facciamo la spesa nel mio negozio preferito per fare la spesa Perché qui ci sono tutti i cibi americani che mi mancano davvero tanto Tanti di voi sapete che sono italo-americana Se non lo sapete, sì, sono italo-americana, vengono a Colorado Quindi mi mancano davvero tanto tutti questi snack americani Oggi farò la spesa in un modo un po' speciale Metterò i post nelle stories su Instagram Se mi seguite sapete già che ho preparato questo video con voi Avete votato che cibi prendo facendo la spesa oggi Ma li prenderò nella verticale Come vedete ci sono tantissimi snack americani Ma noi cominceremo su questa parte qui Che ci sono delle caramelle Questo si chiama oatmeal Qui abbiamo popcorn al gusto peanut butter E almond peanut butter sarebbe burro di racchidi E la mandorla E cotton candy In un sacchetto sarebbe zucchero apilato In un sacchetto già pronto Io vi chiedo su Instagram Vediamo Chiediamo Se volete Che prendo una Rice Krispie Treats M&M Ah, ci sono gli M&M dentro Questi sono tipo cereali Messi insieme con marshmallows Ok O questo O questo Volete che prendo M&M's Al cocco E racchidi Mai assaggiati questi Allora Mettiamo un post Se non mi seguite già su Instagram Andate a seguirmi adesso Così la prossima volta che faccio questo quiz Per fare un video Potete partecipare Speech Treats Con gli M&M O gli M&M's Al cocco E racchidi Adesso aspettiamo qualche minuto Che comincio ad avere dei voti Vediamo quale sale di più Nella percentuale dei voti E poi Facciamo questa prima prova A vedere se riesco a prenderli Con i piedi Perché oggi si fa la spesa In verticale Intanto che aspettiamo i voti Ragazzi Se avete visto questo video Potete andare sul sito Di American Crunch Usare il mio codice sconto Sofieland15 E avere 15% di sconto Su ogni prodotto Che trovate In un negozio State votando Per Yemen & Coco Che io speravo Questo Perché almeno Più facile A prendere con i piedi Ma questo sacchetto qui Come faccio A prenderlo con i piedi Ragazzi Beh A parte che su Instagram Non vi è ancora detto Che lo faccio In verticale Quindi questa cosa Non sapete Siamo a 52% Dei voti Che sono per Rice Krispies Quindi vado avanti A prendere i Rice Krispies Prendo i Cookies con Twix O i Waffers Pink Panther Ok Vediamo Cosa votate qua Deve fare casino Twix Cookies Waffers Pink Panther Vediamo Cosa volete Che prenda Secondo me Questi sono stra buoni Mai assaggiati Biscotti Con dentro i Twix Sta vincendo tantissimo Twix Cookies Quindi vado avanti A prendere i Twix Cookies Niente Waffers Pink Panther Guardate qui 60% Twix Cookies Nooo Come sono? Non mi vido Mamma mia È stato pari casi di qua Basta che non cade qualcosa Guardate quanti gusti di Oreo qua Abbiamo Golden Oreo In inglese si pronuncia Oreo Cool Mint Oreo Peanut Butter Oreo Strawberry Cheesecake Uh facciamo questi Allora Facciamo Al burro di rachidi O Cheesecake Alla fragola Abbiamo Cheesecake Alla fragola O Al burro di rachidi Ok Allora Questo è un altissimo Però non so se ci arrivo Io spero che ci spiega la fragola Perché sono sempre buoni quelli Ok Aspettiamo i vostri voti ragazzi Vi ricordo che questo body Lo potete trovare sul mio sito www.sofiacampano.com Nuovissima linea di body Mi piace un sacco Sono tutti i colori di Sofieland Il canale Ok Non ci credo Ma Io speravo per strawberry cheesecake It's ok però Peanut Butter Oreos 100% Tutti volete che prenda burro di rachidi Ma stiamo scherzando Va bene Ci provo Questi sono in altissimo Quindi non so Mi sa che mi cadono in faccia adesso Let's go Il problema è che non ci vedo Ma è difficile di vedere Aiuto Aiuto C'è una cosa C'è gente qua Ok Fatto Abbiamo Di Oreo Di buono In questa zona qui Abbiamo tanti caramelle qua Anche i donuts Risi Sono strabboni Sono cioccolatini Con dentro burro di rachidi Visto che vi piace Burro di rachidi O Reeses O Questo qua Che sono i mini donuts Allora Questi Li trovate ovunque Se andate a In America Ogni benzinaio Pieno di questi mini donuts Questi sono coperti di zucchero a velo Sono piccoli donuts Buonissimi E Facciamo il voto per i donuts O Cioccolatini con dentro burro di rachidi Visto che vi piacciono un sacco Miss Freshly's Mini Donuts O Reeses Peanut Butter Cups All right Certo che scegliete quello più difficile a prendere con i piedi Fa niente So che su Instagram non vi ho detto niente di questo challenge in verticale Però veramente è quello più difficile Reeses Mini Checups Bello per prenderlo tra le dita questa Però vedo solo le calze non lo so eh Oh shoot Sì, è vero! mettiamo via non è successo niente l'ultimo ragazzi prima che faccio davvero un casino qui a American Crunch, penso in verticale è più difficile che pensavo, facciamo una torta vs i pancake, allora facciamo i brownie vs pancake, che buoni tutti io sono stra buoni vediamo cosa scegliete, io scegliere i brownie perché i pancake li faccio spesso, i brownie non così spesso quindi scegliere quelli l'ultimo ragazzi chocolate fudge brownie mix or Aunt Jemima's pancakes Messa? non lo so, immaginavo, adorati questi pancake vero? 57% free pancake quindi Aunt Jemima migliore nel mondo vengo a prenderti non ci vedeva così senza cadere proprio lì su tutto non so che dov'è direi se siamo pronti per andare a casa e rassaggiare tutti questi cibi ma nel prossimo video ovviamente. Abbiamo Pancake and Jemima, Reese's Peanut Butter Cups, abbiamo Peanut Butter Oreos, molto buoni, Cookies alla Twix che non ho mai assaggiato quindi questa sarà una prima volta per me anche se sono americana e questi Rice Cookie Cheats alla M&M's andiamo a prendere i nostri treats e tutti questi potete trovare online se non siete di Milano siamo pronti? Grazie a voi Sofieland ho tutto quello che ho bisogno di per fare un pranzo di una campione, una campionessa se non mi siete guidi già sui sera andate lì a seguirmi così la prossima volta che faccio questi voti potete partecipare e vi ricordo anche che il nuovissimo body di Sofieland è sul mio sito spero che vi è piaciuto questo challenge commentate sotto se sono stata brava mettere un like se vi è piaciuto questo video se volete che faccia un altro andiamo ad assaggiare questi cibi grazie Sofieland vi voglio tanto bene subscribe se non siete già subscribers e ci vediamo al prossimo video exo exo ciao